Da Olbia con l'auto sono arrivato fino alle campagne di Monti, ho appena parcheggiato e andrò a trovare i responsabili della tenuta Masone Mannu, un'azienda leader in Sardegna per la produzione di vino con delle vigne spettacolari che ora vi farò vedere. Seguitemi perché mi stanno già aspettando. Questa si chiama tenuta Masone Mannu, abbiamo 104 ettari di superficie totale di questi 40 vigneto. Tutto vermentino di gallura con qualche ettaro, pochi di rossi, tutti quanti della tradizione sarda, quindi Carignano, Cannonau, Bovale, con due piccole testimonianze dei vitigni internazionali Merlot e Cabernet, ma il più importante vitigno è il vermentino. Che meraviglia Stefano! Basta guardarsi intorno e vedere questo olivastro meraviglioso che ha centinaia d'anni e viene visitato anche dalle scolaresche dei comuni limitrofi. Stefano, guarda, io sono prima di tutto molto contento per cui dal mio arrivo subito giro in vigna col fuoristrada. Dopo tutto questo parlare mi hai fatto incuriosire e quindi voglio vedere la cantina, ma soprattutto poi voglio prendere un bicchiere di vino in mano. Andiamo! Grazie Stefano! Questo è il cuore pulsante della parte produttiva, la vinificazione. qui i lieviti trasformano la nostra bella uva nei nostri vini su serbatoi di acciaio inossidabile, tutti quanti termocondizionati per tenere sotto controllo al meglio la fermentazione che è un processo naturale che governiamo grazie ad analisi quotidiane e grazie all'ausilio dei lieviti che utilizziamo nelle nostre produzioni. Scusa, ti interrompo, ma qui stiamo entrando in un museo? Qui passiamo da vasi vinari di acciaio a vasi vinari di cemento che abbiamo avuto il piacere di far dipingere da artisti del luogo con fantasia tipo il blue clay piuttosto che quell'altro vaso vinario che tecnicamente si chiama tulip dove fermentiamo il nostro Funtana Manna, vino biodinamico, quindi lieviti naturali, solo il controllo della temperatura perché gli eccessi di temperatura in questo caso come in tanti altri processi biologici non fanno assolutamente bene. Hai citato il Funtana Manna, ricordami perché ho un'idea per la mia prosecuzione del viaggio ma te la dico dopo. Molto bene perché sarà il nostro prodotto del futuro. Rimane una cosa, lo sai, io poi faccio l'assaggiatore di vini, dopo tutto questo bel giro rimane un bel assaggio. Proponiamo, caro Giuseppe, il prodotto di punta della nostra azienda che è il vermentino di Gallura che noi chiamiamo Petrizza. È l'unica DOCG che c'è in Sardegna e questo vino ha ottenuto i tre bicchieri del gambero rosso per il 2022 con l'annata 2020 e per noi è un punto di orgoglio. E l'annata 2020 è stata una buonissima annata, vero? L'annata 2020 è stata un'annata meravigliosa per le produzioni in Sardegna, produzioni contenute ma di qualità sopra la media. Ma ti posso dire io per me la cosa migliore appunto appena versato? Si sente proprio la Gallura. Nel senso che il vino ovviamente è giovane, ha tutte le note primarie del vitigno quindi le note più fruttate e più floreali. Ma in un attimo si scorgono anche proprio i profumi sentori di questo territorio che tra l'altro si riscontrano molto bene soprattutto nella parte gustativa perché questo finale di sapidità, questo finale dei sali minerali, della bellissima mineralità che gli dà profondità mi ricorda proprio questa parte di Gallura, questo disfaccimento granitico che qui in questi territori si scorge e si alterna al bosco e alle vigne. Per noi è un piacere lavorare in questa azienda e fare questi prodotti ma lo è ancora di più quando questa cosa è riconosciuta dai clienti oltre che dagli estimatori. Bene Stefano, noi siamo stati molto fortunati perché nel giro soprattutto in vigna il sole ci ha accompagnato. Ora qualche goccia si inizia a sentire ma niente paura perché io adesso ho un po' di strada a fare con la mia auto. Ti chiedo solo una cosa, vedo Funtanamanna stessa annata 2020, incontrò una persona che mi farà delle preparazioni secondo me straordinarie. Voglio provare ad abbinare questo vino, me lo posso portare via? Sicuramente, anzi ci fa solo piacere perché quello è il nostro prodotto biodinamico che nell'annata 2020 ha raggiunto un equilibrio eccellente.